quando è in passaggio se vuoi stare lì prendi la sedia e metti lì che ti devo dire forse abbiamo ancora delle persone chiusi in macchina oh ciao eravamo un po' scoraggiati ma la pioggia è così via la tragedia ragazzi stasera siamo un po' scombinati spero alla prossima Grazie.